Qual è il vostro approccio per addestrare software di intelligenza artificiale sui dati aziendali? Partirei prima da un concetto abbastanza importante da conoscere e da tenere in considerazione. La mole di dati che oggi la digitalizzazione sta portando all'interno di un'organizzazione cresce in maniera esponenziale, analizzare questi dati diventa estremamente difficile per qualunque essere umano e quindi l'artificial intelligence diventa uno strumento che può aiutare ad analizzare più velocemente e in maniera più efficace tutta questa mole di dati. Questo però che cosa implica? Implica il fatto che questi dati debbano in qualche modo essere disponibili ai sistemi di artificial intelligence e disponibili possibilmente all'interno di un repository centralizzato. Perché? Perché se io devo andare a far parlare diverse artificial intelligence fra di loro questo diventa un compito estremamente difficile e soprattutto se devo andare a pescare i dati da bucket, da sistemi, da contenitori diversi anche questo mi complica la vita e aumenta la complessità nella gestione. Quindi il primo step è quello di cercare di centralizzare quanto più possibile all'interno di una knowledge base i dati che devono essere analizzati dall'intelligenza artificiale. Ora come addestriamo quindi questa intelligenza artificiale? In realtà preferiamo non addestrarla. Questo sembra strano. Perché preferiamo non addestrarla? Quello che noi preferiamo fare all'interno delle nostre soluzioni di artificial intelligence è di fornire, partendo da questa knowledge base di dati consolidati ed estesi, le informazioni necessarie al sistema di artificial intelligence o meglio ai sistemi LLM che sussistono, che diciamo sottendono a questo sistema di artificial intelligence, i dati necessari per farli svoggere il loro compito. Questo ci permette da un lato di utilizzare più sistemi LLM in parallelo e quindi di ottimizzare le performance se non di migliorarle della nostra intelligenza artificiale, ma soprattutto ci permette di cambiare in maniera estremamente veloce quello che l'artificial intelligence deve effettivamente erogare come servizio, come funzione. Chiudo dicendo che quindi nella nostra ottica più che il metodo, la metodologia di training è importante la qualità della base dati sulle quali il sistema di artificial intelligence deve operare. Una sua opinione su CyberSec24? Ottimo evento, veramente un ottimo evento, interventi interessantissimi, devo dire che hanno spaziato dall'intervento istituzionale all'intervento più pratico se vogliamo, quindi complimenti, un ottimo intervento e grazie.